Di poi che Dio sapeva avanti lo crearlo, che per un sol peccato l'uomo si sarebbe perduto, con tutto che poteva, volendolo salvarlo, creandolo più forte e più santo e provveduto. Di poi che Dio sapeva che si sarebbe tradito, così d'essere punito, crear non lo doveva, crear non ci doveva per esser giudicati, salvati o inabissati secondo gli impeccati. Da noi già prevenuti, a noi già destinati, di poi che Dio conosce avanti il fascinato, se intendo a sare insanti oppure scellerati, perché far recitare ad ognuno sta con me. Di certo ma soggetto, che invece è già stampato, che sia perché star solo, nel cielo si è annoiato, si è messo a far l'autore, per non morir di media, perché fanno recitare ad ognuno sta con me.